La rilevazione campionaria del censimento delle istituzioni non profit è in campo già da diversi mesi e ha visto la partecipazione di oltre 50.000 istituzioni. È una partecipazione molto importante che ci permetterà di conoscere in maniera approfondita un settore strategico caratterizzato da una forte dinamicità ed eterogeneità. Se la vostra istituzione ha ricevuto una lettera d'invito da parte di Istat o un contatto da un rilevatore delle società incaricate, MG Research e DOCSA, ma non avete ancora avuto modo o tempo di compilare, vi invitiamo a farlo al più presto, a fare la vostra parte. Partecipare è molto semplice e la compilazione è veloce e può essere fatta in due modi diversi. Le istituzioni che fanno parte del campione long possono compilare il questionario in autonomia sul sito dedicato. Tutte le istituzioni, sia le long sia le short, possono richiedere l'assistenza di un rilevatore che verrà a svolgere l'intervista. Per richiedere l'intervista a un rilevatore potete contattare il nostro numero verde 800 188 847 oppure utilizzare il sito dedicato. Per qualsiasi dubbio di quale campione faccio parte, ma devo compilare il questionario, faccio parte del campione oppure no, potete sempre utilizzare il nostro numero verde oppure scrivere un'email a censimento.imp.it. Grazie e vi aspettiamo.